14 persone sono state arrestate in Kenya in una maxi operazione nell'ambito del rapimento della cooperante italiana Silvia Romano, lo riferisce il media keniano Daily Nation. Fonti di polizia di Malindi hanno detto che 14 persone sono fermate stanotte nella zona di Chakama e Galana a Kulalu. I fermati sono stati portati in vari commissariati per essere interrogati. La retata è stata confermata dal comandante della polizia regionale costiera senza poter fornire cifre sui fermi ma precisando che forze di sicurezza hanno esteso l'operazione alle contè di Tanarivare di Taita Tavetta. Circa il rapimento della 23enne Romano, il sito riferisce che sono rimaste ferite 5 persone del posto e che quando gli uomini armati hanno sferrato l'attacco martedì notte la volontaria si era allontanata per recuperare una batteria. Romano stava facendo volontariato alla Milele African Home all'interno del trading center di Chakama nella contea di Kilifi. Gli assalitori hanno sparato ferendo 4 ragazze e una donna fra i 10 e i 23 anni che sono stati ricoverati in ospedale. Il più piccolo è stato colpito da un proiettile e un occhio, ha riferito il sito della BBC. Nell'ambito delle indagini la polizia keniana sta cercando un uomo che aveva affittato camere per due sospetti scomparsi nel momento del sequestro. Il ricercato si chiama Saeed Abdi Adhan ed è residente nella contea di Tanarivera, nord-ovest di Malindi ed è scappato dalla zona alcuni giorni prima dell'attacco, come ha precisato il sito del più diffuso quotidiano del Kenya. Una persona del posto, Mr. Malik Saeed Gazambi, ha detto ai giornalisti che Adhan ha affittato una casa a Chakama e che più tardi ha portato a viverci due persone. Notizia scritta anche dal Daily Nation, riferendosi alla località dove operava ed è stata rapita a Romano. I due avrebbero passato notti a masticare Mira, conosciuta anche come Kat, pianta con un alcaloide che causa eccitazione ed euforia. Tutti sono spariti dall'attacco, partiti silenziosamente portandosi via tutto quello che avevano. Mentre in queste ore si susseguono i commenti e le testimonianze di Silvia, un pensiero dedicato a lei animerà domenica a Piazza Duomo, nel flash mob contro il femminicidio organizzato dai sentinelli. C'è una violenza reale che stupra e uccide le donne, ce n'è una altrettanto brutale, scrivono i sentinelli su Facebook, che le violenta è in rete, che incita all'odio e all'agonia mediatica. Noi possiamo fermare questo orrore ora. Il posto è accompagnato da una vignetta che dice Silvia Libera e ritrae una giovane donna che alla voce che le dice potevi restare a casa risponde sarei una persona diversa.